Riaperta a senso unico alternato la strada regionale 48 tra Oronza e Misurina a causa di una frana dovuta al maltempo di ieri pomeriggio, sul posto tecnici di Venezostrade e vigili del fuoco. Oggi i rocciatori si sono arrampicati per monitorare la situazione. Mentre la colonnina di Mercurio precipitava da 30 a 15 gradi, il vento faceva danni a Cortina, dove è stato scoperchiato l'edificio che ospita le scuole medie. Ad Acquabona, invece, una colata di detriti e fango ha invaso la strada statale 51 di Alemagna e il traffico è stato riaperto grazie al pronto intervento dei vigili del fuoco. Fortunatamente la colata e i detriti non hanno investito auto in transito, circostanza che invece è accaduta al passo Tre Croci, dove per liberare un'auto intrappolata nel fango sono intervenuti gli uomini della protezione civile. In Agordino, infine, c'è stata una violenta grandinata. Lungo la regionale ieri sera si sono verificate cadute di sassi qualche chilometro prima della stanga. La strada è stata chiusa temporaneamente con operatori che hanno regolato il traffico per consentire l'esecuzione di lavori urgenti di messa in sicurezza del versante a monte della sede stradale.